Oggi un video un po' particolare perché volevo ringraziare un nostro guardatore di video, ascoltatore di tweet e tutto il resto. Ciao il Mirko che ci ha fatto questo regalo bellissimo, sono andata al nostro indirizzo con lo solito. Io ho visto che è arrivato questo pacco direttamente da Hotel Sucker, GmbH che vuol dire SR. Basta il cane dei vicini! Va bene comunque è arrivato a Tech Princess e ho detto ma che cacchio è Hotel Sucker? Ragazzi voi non potete immaginare, a parte che vi chiederete per quale motivo io tenga una scatola direttamente nel frigo ma fa niente. Dovete sapere che qui dentro, dovinate cosa c'è? Una, 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 una Sucker! Era per mostrare che ero contento. Allora lì dietro abbiamo una Carlotta che è lì che si sta nascondendo perché dice no no fai che non mi riprenda, fai che non mi riprenda. Io che sono un po' stronza, scusato. Guardate qui che meraviglia! Cioè il Mirko che ci tiene tantissimo la nostra dieta ha deciso che ci doveva inviare questa bellissima Sucker. Raga è una roba spettacolare. Arriva direttamente da Vienna e se fossero tutti così gli inquilini del castello peseremmo 250 kg. meglio è una roba bellissima. Infatti oggi ce la sbafferemo tutta la facciazza di Erika che oggi non c'è perché aveva altro da fare. Vedi ad avere altro da fare? Eh la torta ce la mangiamo noi. Eh ti è... Eh me la rompo. No, la mangiamo dopo dopo pranzo. Non voglio romperla. Comunque grazie millissime a il Mirko. Si dice che il Mirko? Non lo so. Comunque. Grazie millissime Mirko per questo regalo perché ci addolcirà tantissimo. Giuro che ne lascio un pezzettino per Erika. Ma tipo proprio così piccolo piccolo giusto per farglielo assaggiare. Se volete inviarci qualsiasi cosa, anche pupazzi tipo questi. O altro cibo che tanto il cibo a noi piace sempre. Potete farlo. Vi lascio comunque l'indirizzo nell'info box. E lì potete mandarci un po' quello che preferite. Il cibo, ripeto, è sempre ben accetto. Grazie ancora Mirko. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao!